Ho come l'impressione che questa storia della didattica a distanza ci stia sfuggendo un po' di mano. Videolezioni, dirette, dispense, slide, skype, whatsapp, email... Ma perché non una bella canzone? D'altronde basterebbe riscrivere un testo, ingaggiare una cantante e... Ad esser franco credo che a uno come me i figli non abbia mai voluto bene. La legge salica mi imporrebbe che io dividessi il regno per due e per tre. Ma i maschi ormai son morti alla mia età e io sto destinando a Ludovico l'eredità. Forse dovrei partire, andarmene via di qua e convertire tutti gli infedeli tipo andando in Sassonia. Ma questa sera voglio farmi incoronare, divento imperatore in nome di Gesù. Che la mia fede in ciò che è soprannaturale, è forse alla fine quella spinta in più. Perché? In un mondo di papi divini io sono Carlo Magno. In un mondo di papi divini io sono Carlo Magno. In un mondo di papi divini io sono Carlo Magno. Tu eri pagano e poi hai incontrato me o conversione o morte. Queste le strade fra cui scegliere. Quando dico che spero che trovi il soprano migliore di me, pingo. Che i migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane Carlo? Ma questa sera voglio farmi incoronare, divento imperatore in nome di Gesù. Che la mia fede in ciò che è soprannaturale, è forse alla fine quella spinta in più. Perché? In un mondo di papi divini io sono Carlo Magno. In un mondo di papi divini io sono Carlo Magno. In un mondo di papi divini io sono Carlo Magno. Carlo Magno. Carlo. Carlo. In un mondo di papi divini io sono Carlo Magno. Ma questa sera voglio farmi incoronare, divento imperatore in nome di Gesù. Che la mia fede in ciò che è soprannaturale, è forse alla fine quella spinta in più. Perché? In un mondo di papi divini io sono Carlo Magno. In un mondo di Fabio e di Pinio sono Carlo Magno In un mondo di Fabio e di Pinio sono Carlo Magno